Mi è stato chiesto che cosa ne pensi il Vescovo delle manifestazioni del Family Day che prossimamente si è organizzato a Roma o anche di altre manifestazioni in tal senso. Devo dire con tutta chiarezza che sono iniziative che non possono essere timbrate perché quando si mette un timbro diventa un fatto ideologico. Se la sensibilità etica, civica, civile, se la formazione ai diritti ma anche ai doveri del cittadino è tale da riconoscere determinate garanzie individuali che vanno tutelate ma anche delle garanzie lo accennavo prima, della vita che viene, che nasce e che non può essere considerata una proprietà questo deve essere oggetto proprio della sensibilità sociale e civile dei cittadini. Penso che la Chiesa non abbia molto da aggiungere perché laddove c'è da aggiungere o si aggiunge qualcosa subito, ed è troppo comodo questa strumentalizzazione, dire è la Chiesa, sono i cattolici e invece di andare al confronto delle idee si va al confronto o alla contrapposizione di ideologie. Cerchiamo di usare bene la ragione, cerchiamo di renderci conto di quali sono veramente i valori in gioco per una società che rischia di frantumarsi sempre di più. Cerchiamo di renderci conto quali sono anche le emergenze del Paese, della popolazione, di tante persone che oggi hanno difficoltà ad andare avanti, questo senza nulla togliere ai diritti individuali, ma credo che insieme ai diritti, lo ribadisco con forza, ci sono anche i doveri che non possono essere né sottaciuti né ignorati né tantomeno relativizzati in forza o in funzione dei diritti soggettivi. Quanto poc'anzi affermato può lasciare forse dei dubbi di un'eccessiva genericità, ma nel pensare alla nostra società dobbiamo ribadire anzitutto la centralità della famiglia, centralità che è riconosciuta nell'articolo 29 della Costituzione, ma garantita anche da quelle che sono le normali esperienze e realtà umane che si conducono, nonostante che oggi potremmo dire l'orientamento, l'indirizzo culturale, comportamentale è diverso, ma forse, e qui ritorna quanto dicevo prima, perché si rincorrono i diritti e di meno i doveri. E allora bisogna cercare di evitare, questo lo ritengo è un punto importante, la confusione del linguaggio, confusione linguistica, la famiglia è intesa genitori, marito, moglie e figli, altri tipi di unione che possono essere rivendicati come diritti soggettivi che abbiano altre denominazioni, ma laddove si crea confusione terminologica, allora ritorniamo, secondo me, nella Babele.